Musica Innanzitutto io confesso di essere al cospetto di Loriano Machiavelli un po' emozionato come quando da ragazzino incontrai tutta la squadra al completo dell'Inter Day Record e lui scherza. Loriano Machiavelli, un capostipite io direi, come ci si sente essere un capostipite? Non lo so perché io non sono un capostipite, io sono uno che ha avuto una grossa fortuna nella sua vita, quella di cominciare a scrivere un romanzo noir, giallo, allora si chiamavano gialli nel momento giusto, nel momento nel quale era necessario che il giallo italiano mettesse fuori i suoi primi vagiti e credo di essere stato fortunato perché poi visto che il mio romanzo primo è del 74 sono già 42 anni, sono tanti eh, 42 anni, ecco allora non sono un capostipite sono uno che ha provato a scrivere qualche cosa indicando forse una strada che altri hanno poi seguito. Una strada eh che adesso faremo una breve disamina, il giallo e il noir italiani. La collana dei fratelli frilli editori che andremo a ad esaminare la sera in cui andrò in onda questo video eh ha un punto di forza nella forte caratterizzazione ambientale. Ecco, parlavamo prima di di come dell'ambientazione del giallo e del noir italiani che hanno avuto i loro momenti di crisi da questo punto di vista. La storia del noir, del giallo italiano nel passato è tutta drammatica perché ha avuto dei piccoli, dei brevi momenti di notorietà ma poi spariva subito perché mancava la materia prima, mancavano gli autori italiani che affrontassero argomenti italiani e io ripeto, l'intuizione è stata questa, il noir italiano, una città italiana, un luogo italiano con i misteri italiani che ne abbiamo tanti. Sì, anch'io credo che la gente si riconosca di più. Una domanda che mi è stato detto di porle da Mirko Giacchetti di Milano Nera che sarà tra noi. Una bella domanda, una volta, ai tempi del regime addirittura, parlare di cronaca nera era stravietato. Oggi pare che se nei programmi televisivi non si parli di qualcosa di torbio, non ci sia un crimine, un delitto, non si riesca a fare proprio il programma. Ecco, in che modo? È colpa della rapacità dei mezzi televisivi che abbiamo questi argomenti a pranzo, colazione, a cena? Oppure è cambiato qualcosa nella società per cui la gente ama scavare nel torbido? La gente ha sempre amato scavare nel torbido, non è vero che lo ama solo oggi. Io ricordo le storie del mio paese, erano quelle che andavano più forti, erano le storie trucci, storie che si raccontavano alla sera, negli incontri serali, d'inverno, quindi non è del tutto vero. È vero invece che questo fenomeno diventa un fenomeno di massa, diventa un fenomeno che ci invade, ci sommerge, che non se ne può più veramente a un certo punto, è che diventa la letteratura e questo genere di letteratura diventa di moda. E allora se non gliela metti dentro manca qualcosa. Veramente, io non posso continuare a vedere tutti i pomeriggi, se ogni tanto voglio accendere la televisione, non vedo altro che romanzi polizieschi. Basta, facciamo delle scelte, facciamo delle cernite, scegliamo il meglio, che ce n'è di meglio ragazzi? C'è una quantità di giovani che scrivono, che sono fantastici. Nel 1974 a Cattolica, quando vinsi il Gran Giallo Città di Cattolica, io dissi ai giornalisti presenti alla conferenza stampa, perché il giallo italiano possa funzionare, servono tre cose. Giovani che se ne occupino, che scrivono, giovani, menti fresche, che possono raccontare il loro mondo. Una letteratura, una pubblicazione che costi poco, che sia popolare. Il noir è popolare, deve essere anche popolare nel prezzo. E terzo, che se ne occupi la critica ufficiale, quella che ha sempre snobbato il noir. Bene, questi tre elementi ci sono voluti anni, ma dal 1990 in poi c'erano tutti. Giovani che scrivono ce ne erano, ed ecco il risultato. Una letteratura di massa, bella, non tutta, ma succede in tutti i generi letterari. Si scelga il meglio, il meglio va avanti poi da solo, non c'è bisogno di trovare strada. I bei romanzi vengono fuori da soli. Per cui, ecco, io credo che la letteratura noir, che è letteratura popolare, sia in questo momento nel migliore dei... Poi lo vedete guardando le classifiche, lo vedete chi c'è in classifica ai primi posti. Un'ultima domanda. Il noir e il giallo. Quali sono stati i cambiamenti principali di questi decenni, ma soprattutto dove sta andando? Cosa sta cambiando nel genere? Io ho letto una definizione di noir e di giallo data da un mio collega, io purtroppo non ricordo come si chiami questo autore che ha scritto, e io me ne approprio. Se sapessi come si chiama direi che l'ho rubata a lui. Lui dice, nel romanzo noir, nel romanzo noir, contrariamente al romanzo giallo, la differenza è questa. Alla fine della lettura nel romanzo noir, sono tutti scontenti, il lettore, l'autore e i protagonisti del romanzo. Ecco, la differenza fra giallo e noir è questa. Nel giallo erano tutti felici, un'illusione che tutto si fosse rimesso a posto, nel noir questo non accade. Siamo tutti scontenti, perché non è vero che il romanzo alla fine si ristabilisce un equilibrio turbato da un avvenimento delittuoso, un delitto, un omicidio, un furto. Non è vero, non si ristabilisce niente. Un omicidio resta un omicidio e non c'è punizione di colpevole che rimette in equilibrio la storia. E resta un omicidio. Per cui ecco, nel noir direi, siamo tutti scontenti alla fine. Ma purtroppo ragazzi, la vita non è sempre fatta di gioia, ve ne accorgerete.